C'era sempre questa identificazione tra l'insegno e l'insegno. Sì, non c'è l'elemento del socio. Stiamo raccontando come le azioni delle persone, se coese, possono cambiare le cose. Però qui c'è molta anche responsabilità di impresa, siete voi in primo piano? No, non siamo noi in primo piano, è la collettività in primo piano. C'è in collettività chi mette a disposizione dei prodotti con delle caratteristiche virtuose e c'è la scelta delle persone che possono scegliere quello o l'altro e a seconda di quello che scelgono indirizzano l'economia. Il voto nel portafoglio esiste davvero. Il nostro mondo che vive di economia, di prodotti, di produzioni, vive anche di indirizzi degli enti. Se gli enti indirizzano una determinata direzione, anche il mondo economico cambierà direzione.